Musica Addio al tatuatore Emanuel Fagnani, folla commossa a Santuario di Nettuno Ennesimo furto in via romana a Nettuno, la lettera dei commercianti Incidenta le due di notte a Santa Barbara, furgone, distrugge un negozio Due ore di fila alla posta e poi la chiusura a causa Covid, la rabbia degli utenti Impossibile scaricare il risultato dei tamponi sul sito della regione Lazio Torna la grande palla nuoto Serie A1, oggi Anzio Waterpolis contro Trieste Buongiorno e ben ritrovati al notiziario locale di Young TV Apriamo subito dalla notizia di cronaca La scomparsa di Emanuel Fagnani che ha sconvolto le comunità di Anzio e Nettuno Ieri si sono tenuti i funerali nel santuario di Nostra Signora delle Grazie a Nettuno Non ci sono parole per descrivere il dolore, la commozione, lo sconforto dei familiari La fidanzata, gli amici di Emanuel Fagnani Il 28enne tatuatore di Nettuno scomparso nei giorni scorsi a seguito di un traumatico incidente in montagna Il giovane, lo ricordiamo, era di vacanza in Trentino quando con lo snowboard si è schiantato contro un albero In tantissimi ieri mattina hanno voluto essere presenti al santuario di Nostra Signora delle Grazie per l'ultimo saluto Il ragazzo che da poco aveva aperto un negozio in piazza Battisti a Nettuno, proprio sotto al comune Era apprezzato per il talento e il buon carattere Chiesa gremita e piazzale pieno alle ore 11 per salutare Emanuel Palloncini bianchi e gialli, tante foto, uno striscione o brò, un altro Emanuel per sempre Un altro che ricorda il soprannome di Emanuel, Bradipo vive Padre Pasquale che ha invitato tutti a pregare e a cercare il conforto della fede Una vita non si valuta dalla sua lunghezza, ha detto, ma dalla purezza e la giustizia Rimaniamo a Nettuno per un'altra notizia di cronaca Ieri notte c'è stato l'ennesimo furto in un'attività commerciale di via romana a Nettuno Il modus operandi è sempre lo stesso, il bottino è sempre misero ma ingenti Sono i danni per i commercianti che uniti hanno scritto una lettera all'amministrazione comunale Alle forze dell'ordine Esasperati dai furti nell'attività commerciale verificata in via romana a Nettuno nell'ultimo periodo Sono proprio i commercianti della strada del centro cittadino a unirsi e a scrivere una lettera Rivolta all'amministrazione comunale e alle forze dell'ordine Stanotte, tralasciando un atto vandalico che ha distrutto due fioriere L'ennesimo furto di galline a via romana con danni ingenti per l'attività commerciale Mondadori Store Non ne possiamo più, siamo esasperati Non solo dobbiamo combattere contro la crisi La concorrenza di outlet, di internet e soprattutto contro la pandemia Ci si devono mettere anche questi ladruncoli che fanno cento volte più danni che bottino Chiediamo all'amministrazione comunale e alle forze dell'ordine del territorio Di vigilare di più nelle ore notturne affinché il centro cittadino non diventi terra di nessuno Non ce la facciamo più a chiudere il negozio sperando di non trovare migliaia di euro di danni il giorno dopo Qualcuno faccia qualcosa Torniamo a parlare del furgoncino che ha sfondato la sarcinesca di ingresso di un negozio a Santa Barbara Dalle indagini della polizia di stato si è scoperto che il mezzo era senza assicurazione e alla guida non c'era il proprietario Alta velocità che fa ancora danni nella trafficata via Santa Barbara Questa volta è stato un furgoncino a scontrarsi nella notte nella porta d'ingresso di un'attività commerciale L'auto è distrutta e sono ingenti i danni al negozio Ancora sconosciute sono le condizioni di salute del conducente È stato immediato l'intervento della polizia di stato che ha messo in sicurezza la strada e il veicolo Ma all'arrivo della volante gli agenti non hanno trovato nessuno Il guidatore ha abbandonato il veicolo Si è scoperto dalle indagini che era senza assicurazione il furgone A quanto pare il titolare del furgone contattato dagli investigatori Ha detto che il mezzo non era sotto la sua custodia Ora bisognerà accertare i fatti per individuare con certezza Chi dovrà assumersi l'onere di danni che sono stati causati al negozio distrutto I danni sono ingentissimi sia alla muratura esterna che all'interno Intanto mentre la polizia locale di Nettuno si è occupata di rilievi La polizia di stato ha proceduto con il sequestro del mezzo Su cui saranno effettuati dei rilievi per capire chi era alla guida Ore di fila alle poste per poi essere cacciati via A causa di un caso positivo nel personale Nel servizio è la rabbia di un utente che non si vede garantito un servizio essenziale Sono due giorni che alle poste centrali di Nettuno si ripete lo stesso identico episodio I cittadini si presentano presso l'ufficio postale Prendono il numeretto Attendono a volte anche per più di due ore E poi un addetto dell'ufficio annuncia l'improvvisa chiusura anticipata A causa di un tampone covid positivo tra il personale I primi malumori ma di fronte al covid c'è poco da discudere Oggi però chi era tornato di fronte alla riapertura e alla nuova chiusura Alzato la voce, il marumore tra gli utenti che hanno segnalato il disguito è rattissimo È assurdo fare la fila per più di due ore in un ufficio pubblico ed essere cacciati via Racconta uno dei presenti Quello che mi chiedo è perché hanno riaperto oggi se ieri c'è stata l'emergenza E mi chiedo ancora come sia possibile che non ci sia stato nessuno Che potesse garantire la funzionalità di almeno uno sportello Errore server sul sito di Salute Lazio E gli utenti non possono visualizzare l'esito dei tamponi molecolari effettuati dalla ASL Ancora disagi per chi ha il covid Impossibile scaricare il referto dei tamponi molecolari sul sito della regione Lazio Salute Lazio E quanto segnalano svariati utenti anche con dei commenti sulla pagina Facebook Salute Lazio Il sistema infatti in moltissimi casi non ha riconosciuto le credenziali dando come messaggio errore server Le problematiche del sito e ritardi a fornire l'esito dei tamponi comportano svariati problemi I cittadini che attendevano di sapere se erano o meno tornati negativi per fare il rientro al lavoro o uscire dalla quarantena Nei giorni scorsi migliaia di utenti della ASL Roma 6 avevano ricevuto messaggi errati dall'azienda sanitaria Il cui si annunciava l'esito positivo del tampone, poi smentito Passiamo allo sport, torna in acqua la rosa dell'Ansio Waterpolis Questo pomeriggio alle 16.30 i Anziati incontrano la pallanuoto Trieste Si ritorna in acqua, nonostante il periodo difficile e diverse partite rinviate per il covid L'Ansio Waterpolis lo farà nella piscina dello stadio del nuoto di Anzio Nell'ultima giornata del girone di andata della massima serie Di fronte i neroniani avranno una squadra molto forte, quarta in classifica, la pallanuoto Trieste Che annoverà nelle sue file campioni di levatura internazionale Sarà un incontro molto difficile, la squadra Anziati proverà a dare fastidio alla corazzata triestina Per un girone di ritorno che si preannuncia decisivo per gli scontri diretti della bassa classifica Con 5-6 squadre in una manciata dei punti Il coach Tofani ha lavorato duro in queste due settimane per cercare di trovare la migliore condizione possibile Recuperando anche tutta la formazione del titolare La partita sarà trasmessa alle 16.30 in diretta streaming sulla pagina Facebook Young TV Lazio E sulla pagina Facebook Stadio del Nuoto Anzio Waterpolis E questa per oggi era l'ultima notizia Io come sempre vi ringrazio per averci seguito Vi rimando ai prossimi appuntamenti su Young TV Grazie a tutti Grazie a tutti